Ciao a tutti e bentornati a una nuova Aperistoria. Non so quanti di voi siano mai stati ad Aosta o in generale nella Val d'Aosta, luogo meraviglioso, se non ci siete mai stati andateci perché è veramente un posto bellissimo, ci sono montagne una più bella dell'altra. Ad ogni modo, qualora vi trovaste ad Aosta o nel circondario, intorno alla fine della mattinata, vi consiglierei di provare a prestare l'orecchio ad una piccola particolarità, cioè alle campane. Ora, le campane, come tutti voi sapete, delle chiese molto spesso battono l'ora, di solito un rintocco per l'ora intera, dove c'è un mezzo rintocco un po' diverso per la mezz'ora e ogni tanto, in occasioni particolari, invece fanno delle musiche diverse. Talvolta, a mezzogiorno, viene battuta appunto una di queste musiche diverse, questo per correlare all'Angelus, una delle preghiere, famosa quella che fa il Papa normalmente la domenica e che appunto si terrebbe a mezzogiorno. Se però andate in Valle d'Aosta e nella stessa città di Aosta è provata a prestare l'orecchio, vi accorgerete che invece di suonare questa musica diversa a mezzogiorno, le chiese valdostane lo fanno alle undici e mezza, quasi come se fossero su un altro fuso orario rispetto al resto d'Italia. Ma perché lo fanno? Forse per qualche protesta? Forse perché vogliono mostrarsi diversi rispetto alle altre chiese? In realtà tutto il contrario. Lo farebbero secondo la tradizione per ricordare quando nel XVI secolo del 1536 Calvino, uno dei padri della riforma protestante, il padre del calvinismo appunto, sarebbe arrivato ad Aosta per convertire l'intera valle al protestantesimo, al calvinismo e sarebbe stato scacciato dalla comunità cattolica locale, la quale avrebbe iniziato ad attaccare lui e i suoi seguaci e le avrebbe messi in fuga proprio suonando le campane, addirittura continuando a suonare queste campane per tutto il loro tragitto fino a quando non furono costretti a tornarsene in Svizzera. E quando sarebbe successo questo avvenimento? Beh, non c'è proprio tanta concordanza sulla data, ma c'è grande concordanza sull'ora, proprio alle 11 e mezza. Ma è vera questa storia? O è solo una leggenda? Beh, innanzitutto bisogna dire che, come vi dicevo, c'è una discreta concordanza sull'anno, cioè il 1536, e in effetti nel 1536 Calvino si trovava in Italia. In realtà però non si trovava in Valle d'Aosta, ma si trovava a Ferrara, dove arrivò proprio quell'anno per recarsi, probabilmente sotto falso nome, perché già all'epoca non era molto apprezzato nell'Italia cattolica, per recarsi presso la corte della duchessa di Ferrara, che si chiamava Renata, era una principessa francese, e soprattutto si era convertita al protestantesimo. Renata, che era la moglie del duca Ercole d'Este, aveva creato un piccolo cenacolo di pensatori, ovviamente pensatori protestanti, o quantomeno vicini alla riforma, con cui discorrere di questa riforma, che in quel momento era in atto, siamo ancora prima della controriforma, prima del concilio di Trento, una riforma che progressivamente si stava estendendo attraverso l'Europa. Calvino, come vi dicevo, giunse a Ferrara probabilmente sotto falso nome, rimase, non è ben chiaro per quanto tempo, qualcuno dice settimane, altri mesi, presso questo cenacolo, ma quando poi il duca Ercole si decise a fare qualcosa per porre fine a tutto questo, fu costretto a fuggire, e probabilmente tornare direttamente in Svizzera. Le cose andarono un po' peggio alla duchezza, a Renata, la quale inizialmente, grazie al suo ruolo e soprattutto alla sua origine, riuscì a mantenersi libera, e anzi continuò addirittura ad operare all'interno del mondo protestante, continuando addirittura a intrattenere una relazione epistolare con lo stesso Calvino, ma poi ad un certo punto, quando esagerò e cercò di convertire anche le due figlie, venne presa dal marito e chiusa temporaneamente in prigionia, tagliando ovviamente qualunque ponte. Calvino però, e ripeto, su questo non ci sono grossi dubbi dal punto della storiografia ufficiale, una volta lasciata la corte degli Estensi, se ne tornò verso la Svizzera. Ma che strada fece? Bene, secondo ovviamente una qualunque cartina, la strada più facile sarebbe dovuta passare attraverso la Lombardia, ma secondo la tradizione, appunto, valdostana, il viaggio lo avrebbe portato attraverso la Valle d'Aosta, e non semplicemente perché voleva fare una strada alternativa, forse perché gli altri passi erano chiusi, ma perché voleva proprio fermarsi ad Aosta per convertire quella zona. Il racconto, che è stato fatto da alcuni storici tra la fine del XVI secolo, quindi all'incirca una cinquantina d'anni dopo gli avvenimenti, e il XIX secolo, nel XX poi tutto questo è diventato un po' più leggenda, ma dopo ne parleremo, bene, secondo gli storici, Calvino sarebbe arrivato ad Aosta, e qui sarebbe rimasto alcuni giorni. Non è, come vi dicevo, ben chiaro quando questo sarebbe successo, perché secondo alcuni sarebbe successo in realtà durante il viaggio di andata, e questi indicano come momento del passaggio di Calvino la fine di febbraio del 1536. Altri, e sono oggettivamente la maggioranza, non danno una data effettiva per la presenza di Calvino, ma dicono che si fermò, come vi ho raccontato prima, durante il ritorno. Ad ogni modo, secondo quanto questi storici avrebbero ricostruito, metto un po' il condizionale, perché siamo in un'epoca in cui la ricerca storica non è forse ancora rigorosa come quella di oggi, ad ogni modo, secondo quanto questi storici avrebbero ricostruito, Calvino, giunto ad Aosta, avrebbe preso contatti con alcune persone che già lo seguivano, e forse anche con alcune persone giunte dalla Svizzera proprio per cercare di convertire la valle. Perché quest'aiuto che giungeva direttamente dalla Svizzera? Beh, siamo in un'epoca in cui la religione fa anche molta politica. Se si va ad osservare la divisione della Svizzera negli anni immediatamente precedenti, si può osservare come il Ducato di Savoia, che all'epoca controllava anche la valle d'Aosta, avesse esteso alla fine del XV secolo, inizio del XVI secolo, il suo controllo anche su una parte della Svizzera. Non un controllo effettivo, cioè non c'era un vero dominio su alcune zone della Svizzera, ma potremmo dire una forte influenza politica. Quando era arrivata la riforma, e il Ducato di Savoia era rimasto cattolico, questa influenza però era terminata. Le prime città ad essersi convertite avevano aiutato le altre a liberarsi dal suo dominio, e ora che avevano acquisito la loro indipendenza, sfruttando anche un periodo non facilissimo per i Savoia, avevano cercato, così dicono questi storici, di espandersi in Val d'Aosta. E il modo migliore per farlo era proprio far espandere la religione protestante, far espandere il calvinismo. Purtroppo per Calvino, scegliete voi purtroppo per Fortuna per la Val d'Aosta, però questo suo tentativo non andò a buon fine. E non lo fece per due motivazioni. Il primo è che la popolazione valdostana avrebbe rifiutato in toto la riforma, si sarebbe schierata apertamente con il Papa contro i riformati e avrebbe quindi rifiutato qualunque predicazione. Dall'altra parte, perché pochi giorni dopo l'arrivo di Calvino, Mathieu de l'Ostan, che all'epoca era valivo di Aosta, avrebbe scoperto questa specie di congiuro. L'avrebbe rivelata pubblicamente e appoggiato dalla popolazione del clero, sarebbe riuscito a mettere in fuga Calvino, appunto suonando le campagne e accompagnandolo fino ai passi verso la Svizzera. A ricordare questi avvenimenti, c'è ad Aosta ancora oggi una croce, una croce che viene chiamata o Croix de la Cité, quindi Croce della Città, o da altri Croce di Calvino, proprio legato a questo evento, e che, secondo un'iscrizione che si trova alla base, sarebbe stata retta nel 1541, quindi cinque anni dopo, proprio per ricordare questo avvenimento, proprio per ricordare la cacciata di Calvino. Ora, mezzo così, la storia sembra molto semplice e anche abbastanza provata. Abbiamo un qualcosa quasi contemporaneo a dimostrarcelo, ma in realtà qualche punto oscuro c'è e fin dall'inizio del XX secolo, inizio del XIX secolo, molti storici hanno sollevato parecchie sopracciglia regate a proposito di questa storia e oggi è considerata praticamente leggendaria. Punto primo, come vi dicevo, non c'è concordanza su quando Calvino sia passato da queste parti. Se è passato all'andata, pare strano, perché sappiamo che invece sarebbe passato da altre zone. Se è passato al ritorno, anche in questo caso è strano che abbia fatto un giro così lungo. Basta vedere una cartina per capire che la Svizzera è molto più facile da raggiungere dalla Lombardia, partendo da Ferrara. L'altro punto, e questo è veramente molto interessante, è che la leggenda parte dal presupposto che Calvino sarebbe arrivato in una terra già ancora completamente cattolica, senza nessuna presenza protestante. Anzi, alcuni degli storici dell'Ottocento giungono a dire che i primi, la prima presenza protestante in questa zona, arriverà solo secoli dopo, una volta che il clima religioso si sarà un pochettino calmato e rilassato. Nella realtà non è così, perché se si va a vedere i documenti dell'epoca, si scopre che addirittura già quasi dieci anni prima la presunta venuta di Calvino iniziavano ad esserci i primi gruppi protestanti in Valle d'Aosta. Addirittura dal 1529 si pensa che alcune zone della Valle d'Aosta avessero iniziato a convertirsi. Molto probabilmente un protestantesimo luterano, non un protestantesimo calvinista, ma avessero appunto iniziato a convertirsi. La cosa, peraltro, viene confermata non solo da alcuni documenti anche amministrativi inviati proprio al Duca di Savoia, ma anche da un evento molto particolare che avvenne pochi anni dopo, nel 1545, quando venne aperto il Concilio di Trento, l'allora vescovo di Aosta chiese di essere esentato dalla presenza al Concilio per poter meglio gestire la situazione, dicendo che nella Valle all'epoca vi erano già molti, molti protestanti. E' vero che siamo nove anni dopo la presunta cacciata di Calvino, ma, come vedete, il tempo era stato poco e ad ascoltare la leggenda Calvino non avrebbe dovuto avere nessun effetto. Invece, evidentemente, qualche effetto c'era stato. A questo punto, però, può sorgere una domanda. Perché allora ha iniziato a circolare questa leggenda? Perché far credere che Calvino avesse avuto un ruolo così importante? Beh, secondo alcuni storici, la motivazione è prettamente economica. Come vi dicevo, la Valle d'Aosta all'epoca faceva parte dei domini del Duca di Savoia e all'epoca Duca di Savoia era Carlo II o Carlo III, a seconda che venga considerato un altro Carlo precedente come Duca oppure no. Ad ogni modo, il nostro Carlo II, che per alcuni anni aveva mantenuto una solida alleanza con la Francia, così come tradizione di casa Savoia, proprio in quegli anni aveva cambiato la sua alleanza e sfruttando il fatto di essere in un periodo in cui la Spagna, o meglio, gli Asburgo, l'impero guidato da Carlo V e la Francia di Francesco I stavano lottando, aveva deciso di passare dall'altra parte della barricata, comprendendo che in quel momento appunto gli imperiali erano più forti e legandosi a loro. La cosa l'aveva fatta per interesse, perché aveva delle mire su una parte del Piemonte che all'epoca ancora sfuggiva a suo controllo, cioè sul Ducato del Monferrato, cosa che portò ad una guerra che un giorno vi racconterò anche perché riguarda alcune zone molto vicino a dove vivo. Ad ogni modo, questo suo tentativo non era esattamente andato a buon fine e proprio nel 1536, quindi l'anno della presunta venuta di Calvino, il Duca di Savoia si era trovato a scontrarsi con il Regno Francese che aveva invaso i suoi territori. aveva occupato i territori transalpini, era entrato al di qua delle Alpi occupando la fortezza di Pinerolo e addirittura raggiungendo e occupando la stessa Torino, costringendo Carlo a ritirarsi nella parte meridionale del Piemonte mantenendo il controllo solo di alcune zone della parte più a nord, tra cui proprio la Valle d'Aosta. È possibile, questo dicono gli storici, che a questo punto Carlo, che aveva ovviamente una grandissima necessità di denaro e di aiuto, avesse deciso di sospendere alcune esenzioni economiche, alcuni privilegi che in passato erano stati accordati alla Valle d'Aosta e proprio per evitare che queste esenzioni venissero tolte i valdostani avrebbero iniziato a raccontare questa storia di Calvino, sostanzialmente da una parte vantandosi di aver lottato contro uno dei campioni del protestantesimo, dall'altra parte mettendo in chiaro di avere ancora bisogno di quelle esenzioni di quel denaro per poter continuare questa lotta. Insomma, è come se i valdostani dichiarando in questo modo la loro totale fedeltà al Duca di Savoia, perché non dimentichiamocelo, fare entrare Calvino voleva forse dire fare entrare in generale anche gli svizzeri, avessero in questo modo cercato di evitare che le tasse potessero crescere. Ora, come vi dicevo, su questo non ci sono effettive prove, ma alcuni storici lo hanno supposto e effettivamente rimane un'idea molto molto interessante. quello che è certo è che da questo momento in poi la leggenda continuò a diffondersi. Il povero Carlo II rimase ancora per quasi dieci anni senza controllo del suo territorio che riconquisterà non con le armi ma grazie ad una pace dovendo però cedere alcune parti di esso come ad esempio la città di Pinerolo ma in generale da quel momento la Val d'Aosta rimarrà strettamente legata ai Savoia e poi da lì passerà al regno d'Italia. E di questa storia come vi dicevo all'inizio una cosa resisterà cioè l'abitudine di far suonare le campane alle undici e mezza se andate in montagna quest'estate o se andate a sciare quest'inverno in Val d'Aosta provate a prestare orecchio e scoprirete questa particolarità della valle. Ad ogni modo io mi fermo qua spero che sia stata una storia interessante ammetto di averla scoperta come talvolta capita facendo una cosa al contrario cioè sentendo suonare le campane alle undici e mezza e chiedendomi perché diavolo suonassero così tanto a quell'ora e riuscendo a scoprire tutto il resto. Peraltro a voi può sembrare una storia poco interessante vi dico che ci sono addirittura dei testi dei libri dedicati proprio a questo avvenimento qualora qualcuno volesse approfondire alcuni li trovate anche liberamente online. Ad ogni modo a cosa brindiamo oggi? Beh brindiamo qualora questa storia non fosse vera a chi ha avuto quest'idea geniale che riverbera ancora oggi a distanza di quasi 500 anni perché il genio va sempre riconosciuto brindiamo alla sua salute alla vostra e a presto alla vostra